e passo la parola a Duccio Pacchini che è il direttore di Altre Economia ed è il moderatore di questa serata. Grazie Simona e buonasera a tutte e a tutti e ringrazio nuovamente spero che si sente e si veda tutto e ringrazio il forum italiano dei movimenti per l'acqua e il comitato acqua pubblica di Torino per innanzitutto per l'organizzazione di un'iniziativa come questa e poi per il coinvolgimento di Altre Economia. Non è scontato e banale organizzare oggi con le difficoltà che conosciamo un'iniziativa di approfondimento su questo tema, sul chiamiamolo il DDL concorrenza, poi avremo modo questa sera di entrare più nel dettaglio con precisione, perché in questo momento magari semplifichiamolo in DDL concorrenza, soprattutto per il classico in Italia direi alone di scarsa informazione e quella scarsa informazione ai noi veicolata soprattutto a livello diciamo così di informazione mainstream verso un'unica direzione e quindi verso una direzione ben precisa che ricorda la stagione per chi l'ha vissuta del referendum del 2011 a livello di disinformazione, anche di mala fede e di messaggi che tentano di distorcere la realtà dei fatti. Quindi è molto importante organizzare iniziative come queste per entrare nel merito poi delle cose. L'invito che vi faccio è proprio di condurre tutta la serata con un taglio di approfondimento, un taglio divulgativo, ma proprio con un taglio di merito, al di là di quelli che sono i convincimenti diciamo ideologici personali. Ci accompagneranno questa sera, e le ringrazio, una è già stata citata, Eleonora Artesio e l'altra nostra relatrice è Alessandra Algostino che è professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Torino e che ringrazio per essere intervenuta e che con i loro due primi interventi di questo nostro dibattito ci aiuteranno a capire meglio di che cosa stiamo parlando e quali potrebbero essere le ricadute di questa legge in discussione attualmente alla Commissione Permanente Industria del Senato. Prima di passare la parola alla professoressa Algostino, Mariangela Rosolen mi ha giustamente chiesto di introdurre questi lavori provando a raccontarvi in maniera divulgativa e semplice di che cosa stiamo parlando. Dunque voi se siete qui naturalmente tante cose le saprete però cercherei di non dare nulla per scontato anche per chi ci segue o ci seguirà poi riguardandosi la registrazione. Innanzitutto stiamo parlando di un disegno di legge che è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dello Sviluppo Economico nonché comunicato intorno ai primi di novembre ed è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 dicembre dello scorso anno quindi un provvedimento freschissimo dal punto di vista come dire dell'iter che sta seguendo. Si tratta della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021 e che è approdata alla fine del mese di dicembre presso la Commissione Industria del Senato e qui credo che si apre già un primo punto importante della nostra serata che riguarda le tempistiche nel senso che dentro il piano nazionale di riprese di resilienza approvato lo scorso anno è previsto che l'iter della cosiddetta legge sulla concorrenza debba concludersi entro il 2022. Questo significa e ce l'ha confermato direi fonti molto vicine alla presidenza della Commissione Industria del Senato significa che la discussione chiamiamola così in commissione in aula l'approvazione della legge e l'approvazione da parte del governo delle deleghe debba tutta concludersi entro quest'anno. Questo credo che ponga già un primo direi tema di democrazia e di dibattito perché significa che stiamo parlando di un percorso a tappe forzate poi per carità siamo in Italia i tempi e i termini sono sempre interpretabili però questo già di per sé comprime molto la discussione interna intorno a questo progetto di intorno a questo disegno di legge. Tanto è vero che la presidenza della Commissione della Industria del Senato ci ha informato che l'iter delle audizioni dovrà concludersi entro due settimane da oggi o insomma da questi giorni che appena iniziata. Significa che faranno 80 audizioni da 20 minuti l'una ed è il motivo per cui come ha denunciato il forum italiano dei movimenti per l'acqua il forum e i suoi rappresentanti sono stati non auditi. È stato deciso di non audirli ma di ricevere la loro memoria scritta e quindi già al di là del merito credo che questa cornice di tappe forzate di dibattiti compressi e di strapotere dell'esecutivo ponga già un problema ecco nell'ambito di questo di questo disegno di legge che si articola in oltre 32 appunto articoli e all'articolo 6 che è la materia di cui questa sera ci occupiamo direi che investe tutta la materia che abbiamo affrontato in questi anni e che ha portato al successo referendario del giugno del 2011 nel senso che vi è all'interno del appunto di questo DDL concorrenza un all'articolo 6 la previsione di una delega al governo in materia di servizi pubblici locali cioè entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici anche tramite l'adozione di un apposito testo unico quindi tutto nelle mani del governo che entro sei mesi è chiamato ad adottare questo atto delegato se poi andiamo a vedere dentro i soli due commi almeno quelli introduttivi del dell'articolo 6 del nostro DDL della concorrenza già emergono quelle che sono le direttrici che si vogliono seguire e sono direttrici assai preoccupanti per chi ha a cuore una gestione pubblica nella forma e nella sostanza dei servizi pubblici e per garantire l'interesse dei cittadini faccio qualche esempio poi entreranno più nel merito la professoressa algostino e dell'onore a artesio alcuni esempi prendiamo la lettera b del secondo comma del DDL concorrenza all'articolo 6 dove si prevede una razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e vado avanti e la previsione della separazione a livello locale tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi questo ricorda molto e lo dico collegandomi da lecco in lombardia la legge la discussa e poi bocciata legge regionale lombarda sull'acqua che prevedeva una secca separazione tra la proprietà della reti e la gestione ritorniamo in quella direzione è ancora un superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi i tali principi citati sarebbero una non precisata normativa dell'unione europea orientata tutta al mercato non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio anche qui la retorica del privato efficiente e qualitativo versus un pubblico elefantiaco e inefficiente alla lettera d vediamo definita e tratteggiato il modello delle multi utility poi il comitato acqua di torino lo sa molto bene anche noi in lombardia lo sappiamo molto bene ma non riguarda solo il diciamo così il nord le regioni del nord italia il modello delle multi utility potate in borsa acea a 2a eccetera eccetera alla lettera d infatti si prevedono incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale quindi privato è più efficiente ed è meglio e se ci aggreghiamo riceviamo degli incentivi dei premi perché il nemico numero uno del ddl concorrenza è la gestione l'affidamento in house che viene definito il modello in autoproduzione rispetto al quale gli enti locali devono dare una motivazione anticipata e qualificata per la scelta o la conferma del modello dell'auto dell'autoproduzione addirittura spingendosi a cito giustificare il mancato ricorso al mercato questo è come dire il vocabolario e l'obiettivo che ci si prevede che ci si prefigge poi potrei andare avanti vi è una previsione dell'obbligo dell'ente locale di trasmettere anche qui devo citare tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e ancora e mi avvio verso la conclusione perché non ve la voglio fare lunga ma credo che sia importante tocchiamo anche delle punte quasi di sarcasmo laddove alla lettera H è prevista la previsione di sistemi di monitoraggio dei costi a fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica della tutela della concorrenza fa sorridere in un paese in cui come grazie al forum dell'acqua è stato possibile ricostruire siamo in presenza a dieci anni dal referendum di evidenti meccanismi distorti che governano il metodo tariffario diciamo nelle mani dell'autorità regolatoria Arera tutto a beneficio dei gestori e tutto a diciamo così non a beneficio dei cittadini utenti nonostante questo il dvl concorrenza fa come se nulla fosse e auspica dei sistemi di monitoraggio dei posti e poi ancora viene previsto cito in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione un'adeguata tutela occupazionale cioè il regime di pubblico di gestione dei servizi viene già considerato per morto si esplicita il servizio idrico alla lettera n e andando ancora avanti a proposito del dar per morto il pubblico anche alla lettera q la si dà lo si dà ampiamente per diciamo così passato a miglior vita quando si prevede una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti degli impianti delle altre dotazioni nonché di gestione dei beni in caso di subentro anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica cioè nel caso in cui si dovesse vendere almeno diamo una adeguata valorizzazione della proprietà pubblica quindi anche qui il pubblico è dato per morto ovviamente i dati dentro questa cornice non potranno che fornirli ai gestori e infatti la lettera s è prevista è indicata la previsione di modalità per la pubblicazione a cura degli affidatari quindi ovviamente a cura dei gestori dei dati relativi alla qualità del servizio termino questa brevissima analisi con la lettera v dove sostanzialmente si dice e chi non è d'accordo per chi non è d'accordo sono prevedibili anche interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della costituzione cioè siamo pronti a intervenire direttamente nel caso in cui non si volesse seguire la strada indicata credo che sia molto interessante dopo questo brevissimo diciamo inquadramento generale del ddl osservare anche le audizioni che si stanno tenendo naturalmente per coloro che hanno avuto il privilegio di essere auditi quindi non il forum presso la commissione industria del senato ad esempio recuperato in questi giorni per prepararmi alla serata di oggi l'audizione che ha svolto confindustria l'otto febbraio quindi due giorni fa presso la commissione del senato ed è davvero illuminante leggere la il testo che confindustria ha depositato e che potete trovare sul sito del senato presso la commissione naturalmente non stupisce però insomma leggere che vi tralascio i principi economici che esprime confindustria elogiando la concorrenza ma ci tornerò più tardi confindustria di fatto riconosce e dice quello che noi già sappiamo è che il forum denuncia da mesi che cito in materia di servizi pubblici locali condividiamo le finalità di fondo del ddl di apertura dei mercati e di contrasto all'eccessivo ricorso all'affidamento in house manco fosse un reato manco fosse una condotta di cui vergognarsi ma naturalmente confindustria diciamo che ha le sue diciamo così le sue passioni segnalo però e con questo davvero voglio concludere però credo che sia un punto molto importante noi su altra economia cerchiamo di raccontarlo tutti i mesi e tutti i giorni da vent'anni a questa parte questo atteggiamento schizofrenico degli alfieri della concorrenza naturalmente la concorrenza deve valere solo per l'acqua pubblica non per altri settori faccio un esempio confindustria prende posizione sui cosiddetti controlli sulle attività economiche arrivando a scrivere ai commissari del senato queste parole dice si condivide in particolare il criterio direttivo che prevede meccanismi di dialogo e valorizzazione dei comportamenti virtuosi delle imprese anche attraverso strumenti premiali ciò potrebbe rappresentare uno stimolo all'implementazione di presidi organizzativi da parte delle imprese non soltanto mediante il riconoscimento di un efficace esimente in sede sanzionatoria ma ancor prima escludendo tali imprese almeno in prima battuta dal perimetro dei soggetti da sottoporre a controlli da parte delle autorità pubbliche quindi siamo come dire anche qui i criteri di concorrenza di trasparenza e di pubblico controllo per alcuni valgono e per altri non valgono naturalmente fumo negli occhi sono viste le misure in materia di antitrust e anche su questo confindustria si augura che i poteri di indagini dell'antitrust non vengano allargati per evitare che le imprese siano soggette a quelle che vengono dipinti come lungaggini burocratiche concludo questo lungo intervento e mi scuso ma credevo che fosse importante poi non aggiungerò altro in modo da lasciare tempo alle nostre relatrici di recuperare concludo però con una parallelo perché ce ne siamo recentemente occupati su altra economia e che riguarda sempre l'acqua ma riguarda un'acqua distinta dall'acqua diciamo così che siamo abituati a a intendere rispetto alle questioni referendarie e anche al servizio idrico e cioè che riguarda le acque minerali perché anche rispetto a questa partita si nota come la neve si sciolga al sole la neve dei fautori e degli alfieri della concorrenza che come dire sostengono a pieni polmoni l'attuale ddl in discussione al senato perché perché sul numero di dicembre se non erro adesso non voglio dire una cosa impropria del nostro giornale anzi sul numero di gennaio della nostra rivista noi abbiamo pubblicato un'inchiesta sui canoni concessori delle acque minerali che sono in mano alle regioni il loro la loro individuazione e che riguardano molto da vicino il privato che quei canoni diciamo spesso e volentieri irrisori versano alle regioni per poter imbottigliare e visto che siamo in collegamento in particolare col comitato acqua di torino volevo solo rendervi così informati del fatto che quando noi abbiamo fatto gli accessi civici alle regioni per chiedere i i volumi imbottigliati e i canoni imbottigliati a proposito di concorrenza da parte dei 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 soggetti privati chi si è opposto alla nostra al nostro alla nostra istanza di accesso civico vestendo i panni delle imprese dicendo i dati non li possiamo fornire mineracqua cioè la federazione delle imprese dell'acqua diciamo la confindustria dell'acqua nei casi del friuli venezia giulia e nei casi del piemonte nel caso del piemonte sia opposta tutelando alte guizza fonte alta valle del po lauretana ponte vecchio spumador e vado avanti arrivando a sostenere questo che ricevere i dati disaggregati sull'imbottigliato e sui canoni irrisori versati avrebbe questi mettendo in relazione l'emunto con l'imbottigliato il prezzo che pubblico sono rappresentativi dell'efficienza di ciascuna azienda e questo potrebbe essere usato dai concorrenti per conoscere informazioni riservate sensibili con il rischio di alterare la libera concorrenza e concludo la missione dei meridati quantitativi ci ha ancora detto mineracqua può consentire una lettura distorta del processo produttivo e dare a ciascun operatore una inutile e ingiustificata esposizione mediatica sotto il profilo della gestione della risorsa idrica laddove il controllo spetta unicamente agli enti preposti perché sulla partita delle acque minerali non si deve aprire accendere la luce e non si devono applicare quelle presunte regole di trasparenza e di concorrenza che poi ci si augura per l'acqua pubblica perché come abbiamo potuto ricostruire ad esempio rocchetta in umbria a gualdo tadino in provincia di perugia per un euro speso in canoni ha conseguito 127 euro di ricavi da vendite prestazioni ecco la partita che si gioca ed ecco direi una concorrenza schizofrenica dentro questo contesto passerei la parola alla professoressa algostino per raccontarci appunto il ddl concorrenze l'articolo 6 grazie 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 grazie